Da dove vieni? Da Lodi. Ok, quindi giochi in casa? Sì, sì. Vengo da Marina di Carrara. Abiti qui a Milano? No, io abito a Marina di Carrara. Ah, quanto ci metti per arrivare qua? Tre ore, tre ore più o meno. Sei di qua, di Milano? Sì. Di Lodi, anzi. Lodi o Milano? Milano. Milano. Vengo da Aristano, la Sardegna. Per una borsa di studio ho ricevuto la Licos. Sono di San Donato, milanese. Sei di qui? No, sono di Milano, però... Vabbè, qua vicino, ecco, sei venuta qua per fare l'audizione. Sì, vicino a Moncia. Vengo da Cagagnano, un paese vicino a Lodi. Vengo da Padua. Sì. Da Milano, ma originariamente dalle Filippine. Milano? Sono nata qua a Milano, però i miei genitori provengono dalle Filippine. Da Castelmelle, in provincia di Brescia. Vengo da Milano? Sono di Milano.